Non c'è limite alla contraffazione che ora arriva ad intaccare anche il cibo per cani. 22 tonnellate di crocchette con l'indicazione di origine falsa sono infatti state sequestrate nel porto di Salerno dalla Guardia di Finanza che nell'ambito di una intensificazione dei controlli a tutela del Made in Italy hanno anche scoperto a Baronissi un laboratorio clandestino di merce contraffatta dove hanno sequestrato oltre 1.300 tra etichette e capi di abbigliamento. Le fiamme gialle hanno infatti intensificato i controlli proprio nell'ambito della lotta alla contraffazione e sono così arrivati a fermare a bordo di un camion proveniente dalla Spagna le 22 tonnellate di alimenti per cani che riportavano a una falsa indicazione di provenienza dall'Italia. Il carico è stato sottoposto a sequestro. Per quanto riguarda l'ulteriore servizio di controllo del territorio invece le fiamme gialle hanno intercettato un cittadino senegalese che trasportava due grossi bustoni e insospettiti lo hanno seguito. Il pedinamento è arrivato così a scoprire un laboratorio clandestino. Nel corso dell'intervento è stato sequestrato materiale e strumenti utilizzati per apporre le etichette griffate su alcuni capi di abbigliamento che riproducevano fedelmente i modelli originali. Tre cittadini senegalesi sono stati denunciati a piede libero per contraffazione. Due di loro sono anche risultati non in regola con il permesso di soggiorno e quindi invitati a lasciare il territorio dello Stato italiano in tre sette giorni.